Musica 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 è dedicato a tutti i selliesi sparsi nel mondo, in modo particolare a quelli che amano del nostro paese le tradizioni e la cultura. A quelli che in questo periodo pasquale non hanno avuto la possibilità di essere presenti e vivere questi momenti pieni di ricordi che destano in loro tanta emozione. Il filmato non è granché, ma considerato lo mio piccolo contributo di affetto verso il nostro paese e selliesi lontani che portano sempre sellia nel cuore.